Scegliete la buona salute, scegliete con l'estero a un basso, scegliete la prima casa, scegliete io, non viste cose che voi umani non potete neanche immaginare. Ho visto navi da combattimento in fiamme, dai bastioni di orione, e ho visto i raggi di balenare nel buio alle porte di Tannhauser. Balenare? Tannhauser? Ma di cosa sei impazzito? Credi che il pubblico capirà? Il pubblico è già morto fra il primo e il secondo tempo, idiota! A chi dici idiota? Idiota? A te, idiota! Mi hanno trovato! Non so come non mi hanno trovato! Scapate! Tieni da Macaragas! Buongiorno! Devo consigliare una pizza! Perché? Perché me l'ha ordinata lei, credo! Crede, suppone o sa! Come? Scusi? Sono 5,50 euro. E mi dica cosa c'è lì dentro? Nella pizza? È prosciutto e funghi, mi sembra! Ma se vuole controlliamo! No! Ci sono domande che bisogna dimenticare, anche se la risposta è quasi a portata di mano. E lì... L'uomo saggio è colui che riesce a controllare la sua curiosità. Sei l'uomo saggio tuo o meno di bianco vestito? Io? Vediamo sopra! Senta, se mi dai soldi, io vado via, che dovrei lavorare. Lavorare? Che bello! Di cosa ti occupi? Eh, di pizze... Adesso faremo finta che tutto quello che è appena successo non sia mai accaduto. Che tutto ciò che hai appena detto, tu non l'abbia mai detto. Anzi, piuttosto ci mettiamo a cantare una bella canzone popolare tipica del tuo posto d'origine, sì? Mi raccomando, non sbagliare le parole perché non lo sopporterei. Quindi... Da dove vieni? Scusi... Ma è davvero tardi. Facciamo così, io metto la pizza qua. Per i soldi... Non si preoccupi. Mi lo dà la prossima volta! Ah! Vaglia d'Aosta! Meravigliosa la Vaglia d'Aosta! È un posto meraviglioso la Vaglia d'Aosta! Sei pronto a dare un pezzo popolare da Vaglia d'Aosta? Ahahah! Grazie! Santo Paolo Teo deleterante! Santo Paolo Teo deleterante! Ranina grazie a mia! Tutte quante, tutti... Ciao Elena! Come stai? Io? Bene? Benissimo? Sì, sapete cosa? Sì, sì! E tu? Eh? Che fai? Che fai Elena? Che fai Elena? No, davvero Elena! Un piacere di sentirti! E quant'è? Una vita? Sì! Allora dimmi! Bella notizia! Sì, sì! Sì, sì! Potrebbe essere un modo per rivederci tutti insieme! Volentieri! Volentierissimo! Sì! No! 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 Chiamalo... Chiamalo tu! No! Sai che io non sono mai stato un tipo telefonico! Eh? No! 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 Sto bene! Sto benissimo! Sì! Non preoccuparti! Ci vediamo là! Eh? Sì, l'ho segnato! Ok! Ok, ci vediamo! Sto bene! Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ma che cazzo guardi! Ippofranco! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!